Ma Adriana, stai andando ancora a Venezia? Sì, stai andando ancora a Venezia perché c'è l'ultima edizione del Mercatino dei Granai. Non posso mancare. Il Mercatino dei Granai è l'ultima edizione dopo tre anni di successo. Capiremo perché è l'ultima edizione che ancora non ho capito, magari dopo ve lo dico. Ci saranno 30 espositori italiani e poi dalle 5 e mezza alle 8, musica del vivo. Vediamo, vediamo. Mi trovo con la mia amica Raffaella e andiamo insieme. Eccola! Ben arrivati! Adesso dobbiamo prendere un altro pastello. Il numero due. Numero due. Per andare alla Giudecca. Sì. Fermata, zitelle! Sì. 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 Bene. Finita la visita ai Granai, ritorniamo in città per... Un piccolo aperitivo alla Veneziana. Un baccaro. Quindi ombretta e polpetta. Questa è la visita. E questa è la visita che volete. Eh, guarda. Come si chiama qua questa cosa? Il bacino di San Marco. Il bacino di San Marco. E questo è il canale della Giudecca. Il canale della Giudecca passa una cosa così gigante. Un condominio. Galleggiante. Un condominio galleggiante. Questo è una montagna. Galleggiante. Della MSG. Alla fine siamo venuti via dal mercatino del Granai perché volevamo venire a fare... Un piccolo aperitivo venenziano. E il mercatino del Granai è stata l'ultima edizione perché non abbiamo ben capito perché. Sì. Non si capisce se il gioco non vale la candela ma come dicevi tu se una cosa funziona e ha successo è difficile farla finire. Quindi è peccato perché era un bel evento. Era una bella manifestazione però basta, non uscirà più. Sì, toccherà seguire gli artigiani da un'altra parte. Vi ho fatto vedere quello che c'era e spero vi sia piaciuto. Adesso andiamo avanti con il nostro aperitivo. È un pane! Oh my god! 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 Adesso con l'americano lei sorride 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 Adesso con l'americano lei sorride